Il racconto del Vipa verissimo. Le parole sulla malattia che l'ha colpito. Costantino Vitaliano è stato un personaggio molto in voga nel mezzo degli anni 2000. Ad un certo punto però è letteralmente scomparso nel nulla, e la gente non ha più saputo niente sul suo conto. Che cosa gli è successo? Ecco la verità rivelata durante l'intervista a Verissimo. Costantino Vitaliano si racconta nello studio di Silvia Toffanin. Ancora una volta Verissimo, il programma Mediaset condotto da Silvia Toffanin, è riuscito ad attirare l'attenzione dei telespettatori proponendo un'intervista davvero molto interessante. Stiamo parlando di quella che si è verificata con Costantino Vitaliano, personaggio di punta del passato nonché ex tronista di Uomini e Donne. Per diversi anni questo ragazzo è stato un vero e proprio sex symbol, comparendo sui poster nelle camerette di centinaia di ragazze. Dopo il periodo di gloria però, l'uomo è letteralmente caduto nel dimenticatoio, o meglio, è sparito, e ha fatto perdere ogni traccia di sé. È proprio su questo punto che l'uomo ha voluto fare chiarezza, dichiarando come si si è allontanato dai riflettori a causa di una malattia che lo ha colpito all'improvviso. Si tratta di una patologia autoimmune, una condizione rara che nemmeno i medici sapevano come trattare. Questo ritorno è davvero inaspettato e anche lo stesso Costantino ha dichiarato di essere stato dato per morto in diverse occasioni. Che cosa è successo a colui che ha incarnato per molto tempo il ruolo del tronista perfetto? La gente pensava fossi morto. Ho perso 20 kg e non dormivo. Stiamo provando una nuova cura che sembra funzionare, e di questo sono grato. Speriamo vada tutto per il meglio. Il dottore mi ha rassicurato. Non mi devo operare e sto calando le dosi di cortisone che influiscono sul mio stato d'animo. Ho iniziato ad allenarmi. Ho ripreso 7 kg. Ma quando sono tornato a casa dall'ospedale non mi riconoscevo più. Dalle sue parole a Verissimo è facile evincere come l'uomo abbia tentato più cure, ma come solo quella di adesso stia dando qualche risultato. Costantino ha poi parlato del grande amore che prova verso la figlia, l'unica che ha rappresentato la luce in questo periodo tremendamente buio. L'ex tronista ha poi deciso di concludere la sua intervista dichiarando come la malattia gli abbia offerto un nuovo punto di vista, facendolo riflettere su molti errori del passato. Con il senno di poi ha infatti capito che avrebbe voluto trascorrere più tempo con la madre ed evitare di perdere tempo in cose futili.